La Vena 2009, primo giorno, conferenza energia, siamo con l'architetto Sergio Loss, parliamo di architettura sostenibile, un impegno che parte da lontano. Sì, ho cominciato abbastanza presto la scuola di Crosara, la scuola solare di Crosara vicino a Marostica è del 72, 1972 e già in quegli anni insegnavo all'OIUAV a Venezia, a Facoltà di Architettura, questa progettazione bioclimatica. Insisto perché oggi si è tornati a parlare dei sistemi solari passivi, che sarebbero sistemi solari a guadagno passivo e che praticamente caratterizzano la ricerca intorno alla metà degli anni 70. Ma già verso la fine degli anni 70 ci si è accorti che l'architettura passiva, cosiddetta, è un'architettura bioclimatica dei climi freddi. Quindi quando ci muoviamo dal clima freddo, Ravenna per esempio ha un clima temperato, non freddo, per cui dobbiamo applicare modi, criteri diversi da quelli della cosiddetta casa passiva. Lo dico perché è diventata giustamente famosa la presenza di casa clima a Bolzano che spesso mostra una rinascita di questa casa passiva. Io sostengo invece che è giusto parlare di architettura bioclimatica che consente di affrontare il problema di una climatizzazione naturale in qualsiasi clima. Perfetto. Quali sono gli elementi fondanti e principali quindi dell'architettura sostenibile? Per quanto riguarda l'architettura, la sostenibilità vuole che si utilizzino dei materiali rinnovabili o meglio dei materiali basati su risorse rinnovabili. Questi sono principalmente il legno, se noi avessimo un'architettura, una città vegetale con il ciclo del sole che produce legname, in sostanza riusciremmo anche l'uso della terra, terra cruda più che la terra cotta, della quale purtroppo abbiamo perso un po' molte tecniche e altri materiali che comunque abbiano una caratteristica da poter essere riusati tante volte. E cioè l'architettura ha sempre ricostruito edifici utilizzando pezzi, componenti di altri edifici, travi di legno, colonne di marmo, finestre di pietra, porte, mattoni che passano da una casa all'altra e quindi sempre praticamente riusando materiali non solo ma anche componenti. Quindi è solo oggi che usiamo dei componenti che praticamente non sono riciclabili. Il cemento è pochissimo riciclabile, la plastica molto poco anche, il ferro è riciclabile a costi molto alti. Quindi noi dovremmo muoverci per quanto riguarda l'energia grigia che serve per realizzare i componenti in un ambito dove si ritorna a questa possibilità di riusare pezzi di edifici preesistenti nel momento in cui li dobbiamo cambiare, modificare. Per quanto riguarda invece la climatizzazione, l'ho già accennato, una climatizzazione naturale deve basarsi sul clima soprattutto. Noi ci siamo abituati all'impianto, ma l'impianto nasce nel nord, nell'Europa continentale e lì avrebbe dovuto restare. Molti definiscono la nostra una cultura termo-industriale, addirittura un francese la chiama la cultura del fuoco. Cioè noi ci siamo abituati a usare energia ad altissima temperatura, mentre la cultura mediterranea avrebbe potuto benissimo produrre, climatizzare, sempre usando l'energia del sole e l'energia idroelettrica per dire, l'Italia è tutta, lo mostrerò, piena di montagne dalle quali scende naturalmente, diciamo, scendono fiumi e con i quali si potrebbero benissimo produrre energia elettrica. All'inizio del 1900 l'Italia aveva l'80% dell'energia prodotta per via idroelettrica e non ci sarebbe motivo, risparmiando ovviamente l'energia, di abbandonare questa straordinaria risorsa.